La fondazione CHOPS malattie rare nasce il 13 maggio 2023, quindi siamo una fondazione CHOPS e in particolar modo viene istituita a seguito della diagnosi di sindrome CHOPS per il mio bambino Mario che ha 3 anni e mezzo. La nostra missione è da sempre quella di promuovere, guidare e accelerare il percorso di ricerca scientifica per provare a trovare una cura a questa sindrome genetica ultra rara e multi organo. È una sindrome ultra rara perché in effetti ad oggi nel mondo conta soltanto 34 casinoti di cui 4 in Italia e si dice multi organo perché appunto la stessa parola CHOPS è un acronimo e indica tutti gli organi che purtroppo sono coinvolti a causa di questa piccolissima mutazione localizzata su una regione specifica di un gene specifico, quindi è veramente estremamente rara. La parola CHOPS appunto indica con la sua lettera C, una cronima inglese, la lettera C indica ritardo cognitivo e tratti del volto grossolani, la H difetti cardiaci, la O obesità, la P coinvolgimento polmonare e la S displasia scheletrica e bassa statura. Non sono gli unici sintomi, ce ne possono essere degli altri, comunque questo fa capire come sia una malattia che impatta a 360 gradi sulla vita dei pazienti che ne sono colpiti. Noi cerchiamo da quando siamo nati di sensibilizzare tutti su questa tematica e cerchiamo di essere un ponte fra le famiglie che sono sparse per tutto il mondo, per tutto il globo e i medici e i ricercatori. La fondazione CHOPS è già riuscita in pochissimo tempo ad avviare un vero e proprio percorso di ricerca scientifica, grazie alla sua commissione medico-scientifica ha finanziato una compagnia di biotecnologie di Boston che ha già individuato una lista di farmaci potenziali che potrebbero alleviare uno o più sintomi che caratterizzano la CHOPS. Ecco, come quindi nasce la collaborazione qui per questo evento che è anche fondamentale per far comprendere a tanti cittadini che ci sono delle malattie rare che non si conoscono proprio. Sì, è importante parlarne, è importante veicolare il messaggio attraverso eventi come questo che uniscono la moda, la cultura, l'arte, quindi utilizzando dei canali di comunicazione universale si può lanciare un messaggio che è molto delicato e che è quello che riguarda le malattie rare in generale. Io sono stata contattata da Valeria Pellegrino della DB Model qualche tempo fa che ha proposto la realizzazione di questo evento che è un evento elegante, un evento che ha molte sfaccettature e io invito veramente la popolazione reggina a partecipare e che avrà anche la finalità di raccolta fondi perché parte del ricavato andrà proprio a finanziare la ricerca scientifica quindi andrà a supportare il lavoro nostro come Fondazione CHOPS.